Perdonami, lo sai che ti amo, ti vedo, farai esattamente quello che ti dico, fuori troia, dove cazzo sei, dove cazzo sei, ti amo, Uomini Terribili, il podcast di Elia Cristofoli. Amatissime lettrici, o meglio, amatissime ascoltatrici, d'ogni età, etnia, cetosociale, inclinazione sessuale, ideologia politica e fede religiosa. Diciamocelo, è tutta la vita che avete il presentimento che ci sia qualcosa che non quadra negli uomini. Molte di voi sono andate ai matti pur di comprendere quali teorie alberghino nelle loro menti. Altre di voi gettarono la spugna molto tempo fa, rassegnandosi all'esistenza dell'uomo per ciò che egli è, vale a dire, un essere umano con il pene. Qualunque sia la vostra storia, suppongo che durante il corso delle vostre vite, lunghe o brevi che siano, tutte voi abbiate avuto modo di constatare quanto gli uomini siano poco inclini a immagazzinare le vostre parole. E in quelle rare occasioni in cui ci sono casualmente riusciti, come essi, siano soliti a elaborare i dati in maniera del tutto arbitraria, attribuendo significati a random anche alle vostre affermazioni più inequivocabili. Per dirne una, quando un martione insiste e voi replicate quel classico Il traduttore simultaneo nella sua testa, puntualmente guasto, interpreta il tutto con È come quando gli rispondete E in automatico lui vi risponde Lo so, è sconfortante. Ma non disperate, perché questo manuale, Ops, questo podcast, si pone come obiettivo quello di decifrare per voi il linguaggio del pianeta maschio Naturalmente non in maniera dettagliata come il libro omonimo Scusate la marchetta Vi mostrerò come intercettare potenziali narcisisti, stalker, psicopatici E tutto il resto della combricola degli uomini terribili Ma quali sono questi uomini terribili dei quali una donna si può innamorare? Ecco la lista, mie amorevolissime ascoltatrici Anche se non credo che rispetterò quest'ordine Il marpione Lo stalker, il narcisista, il peggiore per voi amiche mie Lo psicopatico, il menefreghista, il fattone, l'uomo zerbino Il mammone, il criminale, il casto, il feticista, il tossico d'amore E lo stronzo, ossia il vostro preferito Il marpione è la legge dei grandi numeri Il termine marpione deriva dal francese morpion Che significa piattola Seppur si tratti del più innocuo fra i tipi d'uomo in lista Il marpione si aggiudica un posto d'onore tra i più snervanti di sempre Quante volte vi è capitato di essere in discoteca A ballare con le vostre amiche E all'improvviso vi spunta un tizio da dietro Che vi appoggia il pacco sul sedere Strofinandosi contro di voi come un cane in calore Non oso immaginare quanto debba essere irritante e sgradevole Fortuna che sono nato uomo Comunque sia, la vita del marpione ruota tutto attorno a un unico concetto base La figa La sua filosofia, per così dire, si riduce tutta a Ogni lasciata è persa Ma comprende anche perle di saggezza Quali un buco è pur sempre un buco E una donna vale l'altra Cioè se va male con una, andrà bene con l'altra È matematica È la legge dei grandi numeri Il marpione è diffuso lungo tutta la penisola italiana Senza distinzioni tra nord e sud Non a caso, marpione fa rima sia con terrone che con polentone È solito colpire in zone affollate Come discoteche, pub, locali notturni E bar particolarmente festaioli Preferisce il buio Ma non disdegna la luce del sole Non è raro che una donna se ne trovi uno in spiaggia O nel reparto ortofrutta del supermercato Sovente il marpione agisce in branco Il branco genera audacia Così i marpioni si fanno coraggio l'un l'altro Assistono alle rispettive incursioni Festeggiano quando è andata bene E si consolano reciprocamente quando è andata buca Il marpione del paleolitico, l'homo arpionis Era solito approcciare con una donna Stendendola con un colpo di clave alla nuca Per poi trascinarla dietro a un cespuglio E farci i suoi porci comodi Il marpione di oggi si è leggermente evoluto Più che altro perché nel corso dei millenni Lo stupro è diventato fortunatamente illegale Ma la caccia rimane un istinto primordiale in lui Anche se non si può certo definire un tiratore scelto Il marpione non aggancia la sua preda a distanza Con un fucile di precisione Per poi colpirla in fronte con un proiettile d'amore No, lui ci prova con tutte Con la speranza che prima o poi Una o l'altra gliela darà E prima o poi Una o l'altra gliela dà sul serio Perché nonostante tutto Il marpione può possedere potenti armi Di seduzione di massa Per esempio la bellezza In fin dei conti L'occhio vuole sempre la sua parte E a volte un marpione può essere bello O addirittura molto bello Difficile resistere alla bellezza Almeno fino a quando la bellezza non apre bocca Ciao bella Se io avrei i soldi Ti regalerei il mondo Un altro vantaggio di alcuni marpioni Può essere il fisico statuario Un uomo che tiene la camicia slacciata Per mettere in mostra i suoi pettorali Diciamocelo Vi fa bagnare come delle scolarette D'altra parte La canottiera è un forte segnale premonitore Di marpionaggine acuta Le canotte dovrebbero essere proibite Per legge agli uomini Soprattutto a quelli troppo pelosi Ma occorre dire Che anche il marpione più becero Ha il diritto di accoppiarsi Anche se occorrerebbe rivedere Il suo diritto di riprodursi Sospettate che il vostro fidanzato O vostro marito O quel cazzo che è Sia un marpione seriale? In fin dei conti Chi lo sa cosa combina Quel pene dotato Quando esce Coi suoi amici cerebrolesi Potreste seguirlo O farlo seguire Ma non è carino Stolcherizzare Non trovate? Birbantelle Comunque sia Non disperate Vi sono avvisaglie ben precise Per individuare La marpionaggine Nel vostro uomo Alcune banali come la vita Altre più complesse E meno lampanti Partiamo con qualcosa di banale Primo Il vostro uomo Tiene sempre il cellulare appoggiato Con lo schermo all'ingiù E non lo abbandona sul divano Manco quando va a pisciare Secondo Quando esce con gli amici Si veste da fenomeno E si spruzza L'itrate di profumo Proprio come le prime volte In cui uscivate assieme Terzo Vi invia un messaggio A notte fonda Con scritto Cara Sono sbronzo Resto a dormire da Filippo Chi cazzo è Filippo? Senza contare Che è la stessa frottola Che usavate con vostra madre Quando andavate ad accoppiarvi A casa di un Marcantonio qualsiasi Per i mariti La stessa frottola Si traduce in Devo lavorare fino a tardi Non aspettarmi sveglia Lavorare fino a tardi È plausibile Il sospetto viene da quel Non aspettarmi sveglia Perché non dovreste aspettarlo sveglie? Insomma Potrò fare quello che mi pare O no? Il fatto è Che se foste sveglie Mentre eri in casa Avrebbe meno possibilità Di raggiungere la doccia E il sesso Ha un odore inconfondibile Per altre avvisaglie banali Vi rimando al libro Ma ora Un altro paio di avvisaglie Meno lampanti Ma non per questo Meno percettibili Tipo questa situazione Comunque A me Joker È piaciuto tantissimo A te no? Ma Io Non l'ho ancora visto Ma sì Dai L'abbiamo visto al cinema Non ti ricordi? Regola? Può capitare Confondersi È umano Ma è altrettanto umano Andare a fondo alla questione Non trovate? Ma il più subdolo dei segnali È senza dubbio Quando lui smette Di provare stimolo Nei vostri confronti A quel punto Qualcosa non quadra più E non è raro Che l'uno o l'altra Vada a cercare Il piacere altrove Tuttavia Esistono cause Con cause Ben precisi Per questo Che troverete ovviamente Nel libro Perché ora Il tempo È quel che è Test clinici Dimostrano che Durante un lungo fidanzamento La routine E l'alienazione Possono trasformare voi E o il vostro partner In una persona infedele Talvolta occasionale Da una scappatella e via Tal'altra seriale A cadenza più o meno regolare Per conoscere tutte le cause E le concause del tradimento Consultare il libro di istruzioni Uomini terribili E come evitarli Disponibile su Amazon A pochi spiccioli Attenzione Usare con cautela Non è un medicinale Ma può causare effetti collaterali Come dipendenza cronica Da conoscenza Tecniche di difesa Mie dolcissime Raffinatissime lettrici Se credete di sbarazzarvi Di un marpione Con frasi del tipo Sono fidanzata Abbiamo già visto Cosa accade Che lui vi risponde Ma io non sono geloso Al che Voi potreste ribattere Tu no ma Il mio moroso si A volte funziona Ma a volte no Il marpione più assiduo È in grado di insistere Altranza Tornando ripetutamente All'attacco Fino a prendervi Per sfinimento Dunque Come si neutralizza? La dialettica È da sempre La miglior arma Tanto per attrarre Quanto per contrastare Se avete una certa parlantina Potete mettere fuori gioco Un marpione Con alcune frasi Di circostanza Ben piazzate Ve ne elenco Giusto un paio Per tutte le altre Sapete cosa fare Tecnica della supremazia Nonostante si presenti talvolta Come un uomo sicuro di sé Il marpione È un concentrato Di incertezze Il linguaggio preistorico È spesso uno Dei suoi punti deboli Toccatelo Nella sua stupidità E lo ferirete A morte Chiudo venia Signore Ma Alla frequentazione Di un siffatto E esemplare Non sono interessata O sei qui Lì per lì Il marpione Potrebbe non cogliere Il significato Delle vostre parole Ma chiamandolo signore L'avreste comunque Fatto sentire a disagio E con ogni probabilità Se ne andrà smarrito E sconsolato Tecnica Alla Tyler Darden Guardate profondamente Negli occhi Il vostro avversario E ditegli con tono Lapidario Questa conversazione Termina qui Poi distogliete lo sguardo E tornate a sorridere Da brave schizofreniche Ignorandolo Come non esistesse Consapevole Di non avere armi Sufficientemente potenti Per piegare La vostra inossidabile Volontà Il marpione Se ne andrà a fare in culo Tecnica Del passa oltre Ascoltami bene Coso Perché te lo dirò Una volta sola Qualsiasi cosa Tu dica o faccia Non mi farà mai Dico mai Cambiare idea Sul fatto che di te Non me ne frega un cazzo Passa alla prossima Perché qui Perdi solo il tuo tempo Addio Coso Frasi come queste Sono un pugno Nello stomaco Del marpione Non è detto Che vi lasci subito In pace Ma se dopo averle dette Con vigore E senza incertezze Lo ignorerete Egli sarà presto Costretto a mollare l'osso E se prima di andarsene Dovesse darvi Della puttana Cosa non rara Da parte di un marpione Rifiutato Vi suggerisco Di non perdere Le staffe Altrimenti Rischiereste di vanificare Il tutto E da uomo Sgradito Ma innocuo Potrebbe improvvisamente Trasformarsi In un uomo Sgradito E dannoso Lasciatevi scivolare Di dosso Ciò che non conta Il vostro istinto Di sopravvivenza Vi ha dotato Di una capacità Innata di recitazione Impiegatela Con astuzia E otterrete Ottimi risultati Perché i marpioni Sono stupidi Tanto vale Sfruttare La loro stupidità A vostro vantaggio Ma ora Vediamo Quali sono Le tecniche Di comunicazione Improprie Ossia Quelle frasi E quegli atteggiamenti Che possono Ritorcersi Contro di voi Come un boomerang La troppa gentilezza Siete in un locale Con delle amiche E venite importunate Dal marchione di turno Che non sembra Avere l'intenzione Di schiodarsi E voi Cercate di essere gentili Mi spiace Ma Non ho Non ho tempo Sono Sono con le mie amiche Ecco a questo punto La vostra cortesia Aprirà una breccia Nella speranza Del marpione Il quale ne approfitterà Per infilarci Subito un dito E più sarete cordiali Con lui Più lui si farà strada In quella breccia Ficcandoci Da prima Tutta la mano Per poi Farsi largo E oltrepassare Il barco Con tutto Se stesso Dovete capire Che l'uomo medio Funziona come Un film sottotitolato Nel quale Voi siete il film E i sottotitoli Rappresentano ciò Che lui capisce Pertanto Al vostro Mi spiace Ma non ho tempo Sono con le mie amiche Il marpione Coglierà inevitabilmente Insisti così E Vedrai che te la do È come quando Sorridetta un uomo E costui A causa di un'inspiegabile Associazione di idee Si convince Che ci state provando Con lui Succede in continuazione E sono certo Che da qualche parte Nel mondo Sta accadendo Proprio ora La gentilezza Fa parte della buona educazione Ma talvolta Può essere un'arma Che vi si è rivolta contro Non abusatene Siate stronze Omosessualità simulata Un'altra tecnica Da evitare assolutamente Se volete levarvi Uno scocciatore Dai piedi È Oh mi spiace Ma Sono lesbica A queste parole I pochi neuroni Rimasti nella testa Del marpione Strappano bozze di champagne E brindano alla tripletta Alla quale L'avete inconsapevolmente Appena invitato Già Perché il vostro Mi spiace Ma sono lesbica Viene simultaneamente Tradotto in Voglio assolutamente Fare una cosa a tre C'è poco da reader Lo so Il fatto è che la conoscenza Che il marpione ha Della donna omosessuale Si limita ai video porno Nei quali le lesbiche Vengono per lo più Rappresentate Da incorreggibili porche Che amoreggiano Tra loro Senza per questo Di sdegnare Pisellate occasionali Perciò Non prendetevela Salve vostro tentativo Di omosessualità simulata Lo zottico vi risponderà Non so almeno Guardare Vite parallele Le vite parallele Sono una serie Di libri storici Scritti a cavallo Tra il primo E il secondo secolo Dopo Cristo Più o meno Nei quali Plutarco Grande Storico Filosofo Del tempo Mette a confronto Le vite Di grandi personalità Il più celebre È sicuramente Il libro Sulle vite Di Alessandro Magno E Giulio Cesare Che li compare In una maniera Molto particolare Guardate Ve lo giuro L'avrò letto Almeno dieci volte E ogni volta Ho pianto Perché nessuno Dei due Secondo me Doveva fare Quella fine Se ve lo state Chiedendo No Non c'entra nulla Con la storia Che sto per raccontarvi Ma ogni tanto Devo fare il saputello E suggerirvi Qualche bella lettura Non credete Bologna 2004 Michele è un tipo Tranquillo Normalissimo Trent'anni Capello corto Ama il calcio E la Playstation Banalissimo Abita con Samantha La sua fidanzata La quale Da qualche tempo Cova il sospetto Di essere Cornuta Il venerdì sera Michele È solito Passarlo Con i colleghi Dell'azienda Di informatica Per cui lavora Iniziano subito Dopo lavoro Verso il 18.30 Partitina veloce A calcetto Nel campetto Sottostante Poi si docciano Negli spogliatoi Si riempiono Di profumo Di marca E via A far festa Come da rituale Partono con una Scarica di aperitivi Dopodiché Si fanno Un'ora di strada Per raggiungere Una disco Nel mantovano Sbronzo E molesto A puntino Michele Fa esattamente Ciò che fanno Gli altri Ossia Gettarsi Nella mischia E provarci Spudoratamente Con chiunque Non sia Un uomo È un bel ragazzone Michele Normalmente Piace alle donne Peccato Sia più volgare Di uno sgarbi Con la sindrome Di Tourette Vai a fare il culo Fiondarsi come un avoltoio Dietro a una ragazza Che sta ballando E strusciarsi Contro Per farle sentire Pacco in tiro Non è esattamente Una tecnica di seduzione In giurisprudenza Viene più che altro Definita Molestia Ma Michele Ignora la giurisprudenza A lui interessa Solo una cosa E dopo Per scontato Abbiate indovinato Cosa Perciò Insiste E strusciata Dopo strusciata Schiaffo Dopo schiaffo Ecco che finalmente Alla fine Trova quella Che ci sta A quel punto Michele E la tipa Che ha appena rimorchiato Vanno a limonare Sui divanetti E dopo un lasso di tempo Che va dai dieci minuti A mezz'ora Lui In preda alla libidine La invita a seguirlo Nella topaia Adiacente alla discoteca Per questo motivo Michele E i suoi amici Vanno sempre In quel locale Perché non tutte Le discoteche Hanno di fianco Un hotel a due stelle Che affitta stanze A ore Anche se in realtà A Michele Basterebbero Cinque minuti Dopo il sesso Da strapazzo Michele Si riabbottona Saluta la tipa E torna Dagli amici A raccontarsela Aveva due tette così Si dicono La mia aveva un culo Cosà Me l'ha succhiato qui Me l'ha succhiato là E altre perle Di alta classe Infine Poco prima dell'alba Gli amici colleghi Si salutano Tornandosene Alle proprie vite Alle proprie fidanzate Mogli Figli Eccetera Ogni sabato mattina Quando Michele Era in casa Per quanto si sforzi Di chiudere La porta dolcemente Samantha Si sveglia Di soprassalto E lo ascolta Mentre si infila Repentinamente In doccia Alle prime Credeva si trattasse Solo di una banale Serata tra uomini Una sera alla settimana Ci sta Ma col tempo Michele Iniziò a commettere Qualche piccolo errore A lasciarsi sfuggire Qualche interessante indizio Come involucri Di preservativi Nelle tasche Dei pantaloni Quando non addirittura Macchie di secrezioni Vaginali Sulle magliette Magliette Che puntualmente Toccava a Samantha Lavare Ma la goccia Che fece veramente Traboccare il vaso Fu quando Michele Una sera Rincosò Troppo ubriaco Per andare in doccia E si infilò Direttamente nel letto Vestito così Ronfando Beatamente Samanta Come tutte le volte Era sveglia E avvertì subito E chiaramente Un profumo di donna Che non era il suo E come se non bastasse Il collo del suo fidanzato Era tempestato Di succhiotti Era praticamente Fottuto Se fosse capitato Una volta o due Gliel'avrei Anche fatta passare Ma dopo aver scoperto Che era così Tutti fottuti Venerdì sera Avrei voluto Ucciderlo Al di là Del ribrizzo Che provavo Della sensazione Di schifo Che mi portavo Addosso C'era anche da dire Che quel pezzo Di merda Si sbatteva Una tipa diversa Alla settimana La cosa andava avanti Così da sempre Da prima Che ci mettessimo insieme A questo punto Le chiese Da quanto tempo Lei e Michele Stessero assieme Ma la sua risposta Vi assicuro Che mi lasciò basito Due anni e mezzo Due anni e mezzo Seriamente Da quel che mi ha raccontato Samantha Non è che Michele Fosse proprio La furbizia Fatta persona Ma se in due anni e mezzo Samantha Non si è mai accorta Di nulla Forse Non lo è nemmeno lei Chiedo a Samantha Se non si sia mai pigliata Qualche malattia venerea E lei mi risponde così Ora che ci penso Durante i primi mesi Che stavamo assieme Mi presi la candida Lì per lì Credevo che la causa Fosse il periodo Di forte stress Che stavo attraversando Soprattutto per via Degli esami All'università Ma col senno di poi Sono più che certa Che mi l'abbia attaccata A quel pezzo di merda Non saprei Replico io Suppongo che un pene Con la candida Non si scordi così facilmente Con tutte quelle pustole Quelle lacerazioni E il pus che sgorga Bleh Bleh Michele rappresenta L'apoteosi Dello stereotipo Del marpione seriale Vive per il suo venerdì sera Per quel rituale settimanale Che lo spinge A mettersi continuamente In gioco Ma non per necessità Né per sesso Ma solo per vanità Che è poi L'istinto primordiale Di ogni marpione Doveva provare A se stesso Ma soprattutto La sua combriccola Che era ancora in forma Che continuava a piacere Alle donne Che poteva averne Quante ne voleva E che l'avrebbe Sempre fatta franca Con Samantha E così i suoi amici Nove traditori Seriali in perfetta In perfetta combutta Tra loro Come una confraternita Fosse in voi Mie carissime ascoltatrici Trarrei una conclusione Ovvia Ma assolutamente Non scontata Mai sottovalutare La complicità Degli uomini Con altri uomini Bene 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 Mia affettuosissima ascoltatrice Siamo giunti alla fine Di questo primo episodio Di Uomini terribili E come evitarli In podcast Nel prossimo episodio Affronteremo il capitolo Del narcisista Ossia il peggior tipo D'uomo Di cui una donna Si possa innamorare Quello che la fa sentire Sbagliata Che la manipola Psicologicamente Che la picchia Talvolta Insomma Un gran figlio Di p***a Vi darò due dritte Su come intercettarlo Al primo approccio E su come togliervelo Dai piedi Cercando di limitare I danni Ringrazio la mia Carissima amica Chiara Leoni Per averci prestato La sua recitazione Nonché la sua bellissima voce Ciao Chiara Spero di riaverti Anche nelle prossime puntate La scrittura La regia Il montaggio E la voce Sono tutta roba mia Ve lo dico Perché non pensiate Che ci sia Chissà quale struttura Dietro Ci sono io A casa mia Computer microfono Mentre fuori C'è il deserto Causato dalla quarantena Per via del coronavirus Brutta storia Anche quella Ma non fatemi ci parlare O non la smetto più Vi ricordo Che questo podcast È parzialmente Ispirato Al mio terzo libro Uomini terribili E come evitarli Il manuale Che ogni donna Avrebbe sempre voluto leggere Ma che nessun uomo Ha mai osato scrivere Tranne me Si intende Per il momento Lo trovate esclusivamente Su Amazon Sia in versione cartacea Che in digitale Per Kindle O tutti i dispositivi mobile Inutile dire Che nel libro Gli argomenti Sono molto più approfonditi Per ogni informazione Su me stesso E sugli altri miei libri Potete consultare Il mio sito Solingo.it O Eliacristofoli.com Come vi pare Tanto è lo stesso Qui troverete le informazioni Anche sugli altri miei libri Lucio Piovaschi Professione misantropo Un romanzo Pipe thriller Ambientato nelle strade Periferiche di Verona Tra sesso Droga E pestaggi Con un serial killer Che ve lo raccomando È un horror Ostroff Liberamente ispirato Una storia vera Accaduta nella Siberia Sovietica Del 1933 In pieno regime Stalinista Dove in un'isoletta Sperduta Su un fiume Ghiacciato Si consuma una tragedia Senza eguali Mi raccomando Seguite la pagina Facebook E il profilo Instagram Di Uomini Terribili Basta scrivere il titolo Nella ricerca E li troverete al volo Ma ora Mia garbatissime amiche Da Elia Cristofoli È tutto Vi auguro Un buon proseguimento E alla prossima puntata Di Uomini Terribili E come evitarli Il podcast Dove own Dove own Europe Earth blogger Grazie.